Sempre un piacere venire qui, non ci ferma nessuno, siamo gli autogol, ovviamente siamo noi ma ci sono tutti i nostri personaggi come ad esempio Mr. Conte, non ci ferma nessuno, vero o no? Ma chi mi ferma a me insomma, no no scherzi a parte è stato un bellissimo, una bellissima giornata, può sparare normale un attimo, è stata una bellissima mattinata, una bellissima esperienza, complimenti a Luca, a tutto lo staff perché è stato molto interessante, consigliamo a chi ha la possibilità di andarlo a vedere, boi ad è andato, venga a prendere, prendere Max Allegri, boi ad è. E abbiamo anche l'onore di avere Presidente Moratti, insomma è una mattinata molto simpettica, tanti ragazzi simpaticissimi, molti tifosi dell'Inter, qualcun altro un po' meno, insomma è poco simpettico, c'è anche Guido Meda, salutiamo. oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Grazie a tutti.